ce la posso fare ce la posso fare registrare questo video bentrovate bentrovati follower di nasodani del nasodani channel e soprattutto abbonati premium e abbonati base al canale nasodani perché proprio voi avrete la fortuna di essere i primi a ricevere questo grandissimo sconto questi grandissimi sconti dei quali vi sto per parlare su tre marchi specifici di profumeria di nicchia di altissimo lusso di altissimo livello sarà un video un po non dico buttato lì però sicuramente sarà molto meno curato rispetto ai miei soliti video perché ho poco tempo per realizzarlo e perché c'è tanto tanto di cui parlare ho detto voglio fare un prodotto finito che sia proprio pieno di succo di senso e di cose da dirvi perché ce ne sono tantissime e non potrò magari stare lì ad abbellire no con le solite grafiche metto di qua e di là sarà proprio un video molto normale il più normale dei video possibili probabilmente cosa è successo vi spiego teo di profumix deve sgombrare alcuni dei suoi marchi perché gli stanno arrivando nuovi marchi e quindi mi ha detto è venerdì dovrei dar via insomma questi prodotti al più presto perché mi stanno arrivando questi nuovi marchi e non ho spazio fisico nel negozio per tenerli e quindi qui c'è proprio la nostra occasione di amanti di profumi di nicchia cogliere la palla al balzo per andare proprio ad aiutare teo nello sgombrare il suo negozio facendo comunque degli ottimi acquisti potendoci quindi portare a casa ad un prezzo sicuramente vantaggioso perché qua ragazzi si tratta di sconti del 40 per cento potendoci portare a casa appunto dei prodotti di lusso di livello indiscutibile e dei quali poi avevo già un po parlato in altri video sono tantissimi profumi quindi non voglio perdermi in ulteriori introduzioni dico solo che questo video prima lo pubblicherò solo per quella sezione del mio canale che è dedicata agli abbonati premium quindi voi voi che avete avuto la l'intelligenza di abbonarvi come premium sappiate che il vostro sforzo di poter sostenere il canale viene subito oggi come vedete ripagato perché veramente qua ragazzi è una roba stupenda quella che sto per fare e probabilmente a livello di web una cosa del genere con degli sconti del genere sull'ambito della nicchia non si è mai vista i primi che vedrete questo video saranno gli abbonati premium premium al canale nasodani dopo due giorni pubblicherò questo video anche per gli abbonati base che avranno altri due tre giorni di tempo per appunto avere un vantaggio temporale su tutti quelli che arriveranno dopo cioè nel momento in cui poi pubblicherò il video sul canale pubblico lo vedranno sia i 2.300 iscritti attuali del canale ma poi anche tutti i profani che ancora magari non sono iscritti al canale nasodani per tutti quelli che non sono né abbonati base né abbonati premium è o peggio per voi io ve l'avevo detto che vi conveniva iscrivervi quindi se adesso io farò il video e vedrete che non troverete più delle fragranze a me mi dispiace però avreste potuto utilizzare insomma il fatto dell'abbonamento per iscrivervi e accedere in modo più diretto a questo tipo di offerte che poi questo è un video ovviamente in futuro forse è difficile che riuscirò a fare un video del 40 per cento su tre marchi specifici però arriveranno sicuramente degli sconti ulteriori perciò se siete abbonati base o meglio ancora premium sappiate che avrete un bello scarto di tempo di due tre giorni su tutte le persone che poi arriveranno dopo molto probabilmente comunque io farò anche dedicherò anche una live sempre sul canale nasodani non so ancora quando ma in settimana ecco per aggiornarvi su questa live potrete iscrivervi sul canale telegram naso chat nasodani dove metterò lì tutte le novità in quest'ambito e potrete anche farmi delle domande lì però meglio se me le fate in live perché nella live così riuscirete poi a farmi tutte le domande che vorrete davvero su questi prodotti potrò provare rispondervi ovviamente nei limiti di quello che si può fare con le parole nella descrizione di una fragranza comunque qui veramente dove andate andate giusto cioè è difficile sbagliarsi anche in un blind buy di una fragranza a caso tra queste difficile che non vi piacerà perché sono veramente top 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 level i tre marchi sono son venin del quale avevo già parlato in alcuni video magari uno ve lo linko qua che è un marchio norvegese che fa profumi intimisti e con materie prime di qualità eccelsa oli essenziali naturali biologici eccetera eccetera il secondo marchio del quale andrò a parlarvi si chiama moth and rabbit molti di voi lo conosceranno già marchio che fa delle cose stupende ispirate ai capolavori del cinema c'è veramente tutto un programma io tenterò in questo video di raccontarvi le fragranze una per una ovviamente andrò un po' in modo veloce così vi darò qualche informazione di base in modo che se vorrete fare dei blind buy avrete già insomma un'infarinatura su quello che è più o meno la fragranza e vi dirò per ogni marchio quali sono le mie diciamo signature cioè le fragranze che veramente io dico andate alla cieca su un blind buy perché non sbagliate il terzo marchio del quale vi parlo si chiama fotogenics che è un marchio tutto incentrato sul fiore diciamo della canapa quindi chi non ama quel fiore chi non ama quel tipo di odore quel tipo di molecola ovviamente non amerà quel marchio questo lo so per certo ve lo dico per certo ma chi magari ama quel tipo di odore un po' pungente dolciastro a volte un po' fruttato è sappiate che in quella collezione fotogenics che tra l'altro fa delle cose stupende a livello di packaging potrete trovare il vostro sacro graal andiamo subito con son venin io ve ne avevo già parlato vi faccio vedere già un po la grafica ve ne avevo già un po parlato tempo fa della grafica del packaging hanno questi peccati in fantastici questa specie di parallele più vedo e le loro boccette sono così super semplici ma molto molto belle molto eleganti c'è da dire che quando io parlare di super santal a teo gli andò in sold out nel giro di qualche settimana mese mi sembra quindi ecco questa fragranza che è una tra le mie preferite di son venin purtroppo non c'è già non ce l'ha più già teo però ne ha tante veramente di altissimo livello e direi di partire ecco vabbè questo è un po i packaging sono tutti così cambia la scrittina ma son venin sono tutte tutte così molto molto bello questa carta questo cartoncino non so se si riesce bene a vedere comunque sia c'è una scritta qua bianca in rilievo insomma molto elegante molto di classe anche se dovete fare dei regali a qualcuno è top sarà sicuramente apprezzato adesso vi parlo di son venin uno per volta mi sono scritti qua anche alcune osservazioni perché sennò io impazzisco qua a snasarmi 25 fragranza una dietro l'altra ci do via di testa quindi ho detto mi disegno un po un po tutti e vi dico partiamo con post hum aiuto lo troverò si guarda il primo bello 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 questo è il decantino di post hum vi farò insomma la grafica vi scrivo solo post hum in basso a sinistra magari adesso vediamo un po c'è una roba molto semplice sarà sto video raga come vi ho detto allora questo è un profumo che ha vinto dei premi particolari ha vinto il nella categoria di profumi indipendenti art and olfaction awards del 2020 quindi ecco per dirvi che avete occasione di portarvi a casa un prodotto che ha vinto un premio è un top level per tutto ciò che riguarda i profumi affumicati richiama un po e l'odore di legna bagnata messa ad ardere in autunno è molto bella l'unione tra il tabacco la cannella e la vaniglia che lo rendono ovviamente una fragranza più autunnale invernale non me lo vedo d'estate sinceramente è proprio molto 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 confortevole c'è appunto questa nota di fumo realistica che proviene smorzata da una vaniglia altrettanto realistica e più naturale in base poi ci sono anche delle note cuoiate che la rendono una fragranza particolarmente fashion vediamo che le note sono top abbiamo cannella nel cuore abbiamo fiori di garofano tabacco nella base vaniglia cuoio accordo coiato vetivè tonca fava tonca e accordo affumicato ecco è un 50 ml ecco l'unica cosa che vi dico è che questo marchio fa prodotti intimisti è scritto proprio anche nella loro confezione e dov'è che era scritto ecco qua e qui si legge è in bianco su bianco quindi dalla telecamera qua non si vedrà ma ve lo dico io cioè è un marchio che fa fragranze che non danno fastidio cioè non si è vi aspettate il beast mode la super proiezione la super scia ecco no non è questo il tipo di marchio questo marchio molto sobrio come anche il packaging tende a richiamare è un marchio sobrio elegante di classe molto leggiadro ecco non è un tamarrone assolutamente non è un marchio per burini è un marchio per gente di una certa classe ci tengo tanto a sottolinearlo perché poi magari vita la proiezione è bassa eccetera ve l'ho detto ve l'ho detto prima non è che è bassa è giusta è misurata per il giusto che è il marchio andiamo al secondo se no veramente qua non si finisce più il secondo prodotto del quale vi parlo è 0905 l'apertura è bellissima bellissima di cardamomo balsamico reso balsamico da aghi di pino e vagamente floreale quindi è un po' un mix di mondi tanti mondi olfattivi si incontrano insieme molto molto aromatico legnoso e piacevolissimo è veramente uno di quei profumi che naseresti dalla mattina alla sera mette proprio di buon umore è molto gradevole è totalmente unisex lo vedo più primaverile è molto frizzante anche estivo volendo anche se generalmente il cardamomo si non è una di quelle spezie che richiama l'estate però è fresco ecco probabilmente questo è dovuto anche alle note di salvia e lavanda che lo riportano a un ambiente ecco più summer più primavera estate ecco bello 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 e la cosa bella che c'è sempre questo ago di pino in sottofondo super balsamico stupendo raga veramente bello bello questo e due e poi andiamo al terzo le voler le voler il volatore ecco qui invece allora sì cioè per chi ama l'iris e i fiori bianchi è un profumo da avere io non amo l'iris e non impazzisco per i fiori bianchi quindi di tutte questa probabilmente è quella che a me piace meno è un bel floreale per carità un bel fiorito molto pulito il sandalo sulla base ed è molto prima primaverile anche qua più femminile comunque sbarazzino e sobrio casual non è certamente una fragranza che degna di una certa eleganza molto molto saponosa e comunque è molto bello l'accordo che si genera tra queste note legnose e note pepate interessante ma non è nei miei preferiti poi andiamo al 3007 secondo me sono tutte date queste tipo 30 luglio 9 maggio credo penso non lo so questo è figo questo è figo perché anche qui non è che mi faccia impazzire ma per chi ama il neroli raga è veramente top top è un miscuglio fra neroli e gelsomino molto estivo vagamente vagamente ricorda tom ford neroli portofino ma non c'è non è neroli portofino però ovviamente c'è il neroli quindi si sente è molto femminile molto virginale molto molto innocente come fragranza perciò forse gli manca quel tocco non so forse un po animalesco la trovo poco curiosa poco sensuale è bella cioè per chi ama il neroli se c'è qualcuno tra i miei iscritti qualcuna tra i miei iscritti che ama il neroli questo raga dovete comprarlo cioè veramente non vi capita più un'occasione del genere perché a questo prezzo costano 135 quindi al 40 per cento con 65 euro dico 70 euro 75 euro vi portate a casa il prodotto raga cioè ed è stupendo oppure se avete qualcuno che ama il neroli ecco gli fate un bel regalo veramente con questo è bella è una bella fragranza questa non è male vediamo il pur pur 02 nel frattempo io sto sudando mi auguro che non si veda però qua è un po caldo e non ho voluto accendere il condizionatore per evitare fare di fare dei rumori sottofondo pur 02 ragazzi allora questo pur 02 è il più assurdo di tutta la collezione sonveni l'apertura tende a confondere perché si mescolano note mentolate di menta fresca molto realistica succosa quasi con note resinose e di limone perciò il l'accordo fra menta e limone non è tra i più fortunati in apertura ma aspettate lì dategli 30 secondi dategli 30 secondi un minuto di tempo e diventa una fragranza spettacolare ai livelli di beach hut di amouage tant'è che le note più o meno sono abbastanza simili è un aromatico legnoso le note sono in apertura sono note acquatiche bergamotto mandarino comunque io sento delle note molto citriche anche di limone menta e lemi note centrale basilico e gelsomino note di base vettive legni bianchi legno di cedro muschio bianco e paciuli quindi rimane molto pulita molto spigolosa ma a tratti comunque sia sempre un po balsamica e fortemente aromatica dovuto a questo basilico preponderantissimo è un profumo che mescola l'occidente l'oriente il fresco e il caldo è un po uno di quei profumi che piacciono a me dove si avvertono tanti contrasti olfattivi molto ben inseriti tra loro è bello 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 ragazzi questo questo ve lo consiglio poi alla fine vi faccio un po riassunto di dei miei preferred tra tutti arriviamo all'ultima che in realtà ovviamente super santal è top level ma purtroppo teo non ce l'ha più però c'ha quest'altre e pur 01 anche qui devo dire è particolare perché c'è questo legame tra timo e cardamomo in apertura che lascia un po un po così un po disorientati però sempre qui dopo 30 secondi un minuto lasciate che queste note un po si appassiscano e viene fuori il vero cuore fiorito aromatico e speziato caldo che fa di questo pur 01 una bella fragranza note in apertura c'è vabbè cardamomo zafferano bergamotto eucalipto un po appunto balsamico anche qua note centrali petali di rosa lavanda e timo quindi è un fiorito floreale a tutto andare note di base lavanda paciuli legno di guaiaco quindi c'è savasandir che se non vi piace la lavanda qui è finita per voi però se invece vi piace la lavanda è top level da avere vi dico quali sono i miei preferiti di tutte queste fragranze di son benin miei preferiti in assoluto sono pur 02 poi c'è posthum posthum particolare particolare cioè alle prime snasate può lasciare anche lui un po disorientati però poi uno ci fa il naso e diventa una fragranza che si sente piacevolmente anche a livello proprio quotidiano c'è te la spruzzi perché diceva cavoli mi mancava di sentire sto odore e in assoluto in assoluto è l'altro mio preferito è 09 05 ecco bene questi erano i son benin 40 per cento sui son benin adesso vi dico il codice qual è ve lo dico adesso poi ve lo dico anche a fine del video però così almeno non vi faccio attendere troppo ragazzi perché ovviamente ci tengo insomma al vostro tempo il codice sconto si chiama naso danni 40 scritto tutto attaccato in maiuscolo non mi venite a dire ama il codice non funziona troppe volte mi è capitato dovete scriverlo in maiuscolo non in minuscolo non lettere a caso tutto maiuscolo con 40 a numero ve lo scrivo qua in sua vera impressione così così come lo dovete scrivere ovviamente prima mi dovete iscrivere al sito di profumix luxury brands punto it una volta che avete fatto l'iscrizione al carrello finale mettete il codice il codice sconto è valido appunto per i brand son venin moth and rabbit e fotogenics per questi tre brand vale il 40 per cento di sconto su ogni fragranza che acquisterete è già attivo ed è valido fino a fine anno quindi comunque di tempo ce n'avete però attenzione perché fino ad esaurimento scorte quindi io credo che qua di gente con la testa ce ne sia parecchia nel mio canale che mi segue quindi mi sa che un bel po di voi inizieranno a fare gli acquisti già da adesso quindi ecco se poi arrivate lì che ci pensate ci pensate a dice a dita adesso questa devo comprare ma come faccio ma come non faccio poi arrivate lì non c'è non c'è più è o peggio per voi mi dispiace potevate arrivarci prima e questi sconti valgono comunque dieci volte dieci volte per ogni cliente bene adesso andiamo al marchio successivo che si chiama appunto moth and rabbit marchio tedesco di berlino che si ispira ai capolavori del cinema ci sono titoli di film che hanno fatto proprio la storia poi li vedremo punto insieme mi piacerebbe fare un video proprio per ogni marchio perché questo è proprio un video così generale un'infarinatura in generale dove vi racconto un po tutto nell'insieme in realtà il mio sogno sarebbe proprio nelle prossime settimane visto che comunque questi sconti sono validi fino a fine anno potrei anche pensare di fare un video magari anche solo su moth and rabbit dove vi metto il parallelismo tra la fragranza e il film raccontando ve li appunto insieme sarà molto interessante però per adesso vi dovete accontentare di questo video appunto molto molto easy primo profumo che andremo a sentire si chiama duke of burgundy questo qua ed è ecco un molto animalico molto particolare è a tratti floreale talcato insieme si avverte molto la nota di pesca di cuoio e note animali che quindi è veramente strano e nel fondo c'è un accordo molto molto particolare super molecolare che ricorda la vernice quindi l'odore di vernice si mescola al muschiato all'animalico al fruttato è un po dolce un po acidula è veramente particolare questa è proprio nicchia raga cioè è se non è nicchia questo questo profumo qui non esisterà nicchia questo è veramente molto molto particolare e poi c'è una nota di pelle umana che a leggerla così sembra inquietantissimo in realtà sì non so non saprei definirla tra le tra le note è difficile riconoscere la pelle umana anche perché che nota è la pelle umana comunque vabbè non lo so comunque è un profumo molto molto verde comunque che vi trasporta in una realtà molto animalica verde animalico ecco unisex all season bello mi è piaciuto dopo vi dico i miei preferiti anche in questo caso mettiamolo qua da parte è così è molto molto sensuale questo l'ho trovato molto sensuale poi andiamo su single man wow questo raga è pazzesco single man io ovviamente li ho testati eh su pelle vi posso dire che l'evoluzione è particolare di tutti i profumi e anche la loro la durata sono tutti degli eau de parfum quindi fighi questo è un legnoso speziatissimo con un'apertura interessante di zenzero zenzero peperoncino e cardamomo la nota di peperoncino è chiara evidentissima chi ama il peperoncino amerà tantissimo sta fragranza è divertente queste tre note si mescolano insieme generando un accordo curiosissimo le stelle però di questa fragranza sono senza dubbio le note di cuore dove abbiamo delle note molto legnose cashmeran legno di cashmere e lemi noce moscata e rosa quindi è sicuramente autunnalissima invernale la rosa la nota di rosa è molto avvolgente lo trovo un bel profumo unisex bello molto bello questo raga allora dov'è mettiamolo qua ok anche se si chiama single man comunque si lo trovo senza dubbio unisex ecco blow up blow up vabbè il capolavoro di antonioni qui non c'è bisogno che ve lo racconto il film penso che voi lo conoscete ormai tutti ma questa è pazzesca raga cioè non so perché ma questa a me mi ricorda il natale andiamo al di là delle mie sinapsi mentali ma questo veramente mi richiama il natale è molto molto difficile da decifrare c'è un'apertura vagamente busi di assenzio che è insomma quasi drogifera cioè sa proprio di qualcosa di strano molto particolare perché si mescolano le note di ribes e ribes nero note che io il ribes io amo adoro alla follia quindi è un po' glaciale un po' fredda un po' busi vari legni vari incensi nel cuore raga è particolarissimo adesso vi leggo anche magari le note perché questo veramente ve le voglio leggere tutte perché è pazzesco allora note c'è zafferano assenzio ribes nero cardamomo gemme di ribes bellissimo l'accordo di ingresso è bellissimo poi c'è il cipriol incenso vari cedri cinese agri di cedro mirra note legnose cuoio zibetto ambra e labdano o labdano dipende dai punti di vista autunnalissima invernalissima questa per il prossimo inverno farete follie cioè è veramente una fragranza che conquista voi e chi vi sta attorno bella 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 raga e lo mettiamo qua parasite che è un film coreano ma che è uscito qualche anno fa particolare e questo in primis cioè quando lo senti all'inizio ho detto ma qui secondo me teo si è sbagliato mi ha messo la stessa lo stesso blow up me l'ha messo qua in realtà però no c'è un po' di differenza somiglia molto blow up però è un po' più verde non mi colpisce meno di blow up quindi sì quello che vi posso dire è somiglia blow up però è più verde acquatico anche diciamo la versione prima primaverile estiva di blow up secondo me particolare non mi ha fatto impazzire dreamers ragazzi dreamers è pazzesco pazzesco veramente me lo ricordo proprio bene 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 ma l'apertura è troppo bella pulitissima sa proprio di lenzuola pulite di letto lettone bianco con queste lenzuola soffici pulitissime muschio bianco squisito talcato clean e poi ci sono queste note floreali di geranio che la rendono comunque più interessante dreamers tra l'altro è una delle ultime loro uscite 2021 e note appunto è un po' aldeidato violetta geranio rosa benzoino mughetto iris fava tonka sandalo mirra vaniglia cedro incenso e muschio è pulita cioè l'output è proprio viene in mente proprio gli asciugamani anche di una spa avete presente quando andate in spa che c'è quell'ambiente proprio veramente che sa di di fresco di pulito ecco bello 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 mi è piaciuto la hen ossia l'odio se non avete visto il film lo dovete vedere perché è stupendo cosa che in realtà però con il profumo questo non lo so allora questo raga cioè non mi era mai capitato mi sa di salame sa di ciauscolo cioè di salame tagliato sotto il naso io tra l'altro so vegetariano quindi c'è proprio no non questo è un no per me cioè la metto non ve ne parlo neanche perché veramente non l'ho trovata interessante cioè non mi è piaciuta veramente non e non mi sento di parlarvene altro andiamo avanti enter the void altro film allucinante se non l'avete visto dovete vederlo parla di questo giovane che muore che ha tipo sto viaggio astrale post mortem girato in giappone in mezzo ai neon delirante un film delirante poi quando farò il mio video dove vi parlerò di ogni film a fianco di ogni fragranza ve ne parlerò meglio è bello molto bello enter the void l'apertura è proprio pieno 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 elicrisio lime pompelmo e note animaliche quindi è acidulo e aggressivo nella sua apertura ricorda proprio il colore dei neon di tokyo quei quartieri dove ci sono questi neon violentissimi viola blu fluorescenti insegne stroboscopiche ti manda veramente il cervello in tilt si fa veramente pensare a una città una metropoli orientale di notte c'è un accordo insomma molto molto sintetico appunto di pelle umane note centrali aldeidi e poi c'è il muschio sempre in base insieme a sandalo e ambra è particolare molto particolare non mi ha fatto impazzire ma posso comprendere che può fare impazzire qualcuno perciò di queste io vi suggerirei ma fate un acquisto da teo e fatevi mandare i campioni cioè questa è un'altra idea che mi è venuta in mente cioè se dovete acquistare da profumix qualcosa fatevi mandare qualche campione di queste fragranze delle quali vi sto parlando oggi di quelle che vi hanno incuriosito di più così le sentirete col vostro naso e potrete approfittare lo sconto il 40 per cento non è male come idea tanto lui ve le manda gratis vuoi dire quattro cinque sei campioni ve li manda teo è un grande anzi salutiamolo ciao te quindi questa così lobster lobster particolarissima particolarissima a me questa mi ricorda proprio l'odore di aragosta la cosa pazzesca ma non è brutto e cioè non sa non puzza di pesce morto sa proprio di qualcosa di marino anche se non è una fragranza marina raga cioè non non ha note che richiamano l'ambiente marino è in realtà proprio il contrario perché ci sono note terrose di terra note vegetali c'è il ciprio il mughetto note verdi però ci sono anche ste note acquatiche non lo so è stranissimo raga vi giuro è stranissimo questo più lo sento più me ne innamoro è una di quelle fragranze addictive che staresti proprio lì a chiudere gli occhi e immaginare delle situazioni è molto evocativa molto dreamy molto 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 particolare di tutte probabilmente questa è quella più evocativa quella più strana e più nuova non ho mai sentito nulla del genere note acquatiche legno di cedro si avverte quindi anche un po elegante volendo cioè se volete un profumo nuovo che non mai nessuno ha indossato la vera nicchia proprio lo trovate qui raga the lobster mi raccomando questo è veramente recommended by nasodani comunque un terroso verde acquatico e legnoso sa proprio di terra verde bagnata è come se se vi metteste sdraiati su un prato con la rugiada del mattino la sensazione è proprio quella cioè il clima magari fuori è caldo cioè ci sono già i primi raggi del sole ma il prato è un po bagnato dalla rugiada e quindi state lì che vi godete questo che vi godete questo questo momento di relax personale di questo momento unico bella veramente bella mi è piaciuto un casino lobster andiamo alla prossima dolce è un'altra che mi è piaciuta un casino raga un casino è stranissima è veramente strana mi raccomando se vi fate mandare i decant dolce lobster must assoluto bello l'apertura è dolce anche qua c'è qualcosa di particolarmente busi anche se non è dichiarata nelle nelle note però è strano cavoli c'è un qualcosa di vanigliato un sentore dolce con sfumature quasi gourmand dovute molto probabilmente alla mescolanza fra la nota di sciroppo d'acero e le note dei fiori d'arancio dolce gradevole quasi da masticare è una di quelle fragranze che fa sorridere cioè quando la sentite proprio vi mette di buon umore non può non mettervi di buon umore e poi c'è una cosa molto molto particolare nella base che è la nota sintetica di neve raga cioè stupenda quindi è proprio un fresco dolce un po animalico tuttavia anche se c'è la nota di neve veramente secondo me questo può essere tranquillamente un primavera estate anche queste note insomma sintetiche percorrono la fragranza dall'inizio alla fine e la rendono qualcosa di unico veramente consigliato andiamo all'ultima di Moth & Rabbit che si chiama Mood Indigo e già il nome qua comunque richiama qualcosa di orientale Indigo India questa pure è pazzesca raga wow pepatissima bella 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 ambratissima pepata incensata questo incenso e questo sandalo che vengono infuocate dalle note di peperoncino in apertura è un incensato piccante se amate l'incensato questo dovete sentirlo raga perché è proprio piccante è molto particolare decisamente orientaleggiante ma che unisce anche l'occidente dovuto anche dal fiore di camomilla e dall'uso di alcuni legni di cedro che trasportano volendo la fragranza in ambiti un po' più commerciale anche se comunque non è mai scontata eh raga cioè è veramente una cosa unica è bella l'evoluzione perché quando va via un po' il peperoncino rimane proprio stincenso orizzontale stupendo un unisex molto elegante e bellissimo vi dico i miei preferiti di Moth & Rabbit Mood Indigo è un mio preferito assolutamente da sentire e da avere Dolls è un mio preferito assoluto Lobster ragazzi Lobster è un mio preferito Blow Up Blow Up è pazzesco C'ha quasi anche delle note di cenere molto particolare veramente particolare Single Man bellissimo molto molto bello e Duke of Burgundy queste sono le mie preferite di Moth & Rabbit anche qui ovviamente il codice è sempre lo stesso Nasodani40 scritto in maiuscolo che dovete utilizzare come coupon su www.profumixluxurybrands.it il prima possibile perché le fragranze ovviamente sono fino esaurimento scorte quindi chi arriva prima di voi e si può e è il fortunato che si porta a casa magari tre confezioni di lobster meglio per lui peggio per voi purtroppo però così è il mondo del commercio ma così purtroppo adesso vi parlo dell'ultimo marchio che non ho qui Decant del quale non ho qui Decant ma comunque li ho sentiti tutti e li conosco tutti benissimo si chiama appunto Photogenics e fa queste... è tutto appunto incentrato sulla nota di cannabis e declinazioni quindi anche note un po' di hashish insomma polveri prese dalla lavorazione di questa pianta che tra l'altro ho visto che sta andando un casino come nota nel mondo dei profumi cioè so per certo che i profumi con questa nota ultimamente vabbè a partire da Black Afghan ormai da anni che c'è però ultimamente veramente sta andando tanto tanto questa nota un marchio statunitense di Los Angeles dove tra l'altro io so che là ci sono proprio un sacco di campi con coltivazioni perché poi là questa pianta viene utilizzata a livello legale per curarsi tutte queste resine vengono comunque estratte a livello naturale cioè di chimico qua c'è poco niente questa è una figata sono legali raga tutto legale qua ovviamente eccetto la numero 5 che si chiama Pavot che è un po' più un floreale floreale bianco un po' più pulito muschiato cioè si sente che è una fragranza molto 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 raffinata ma nel senso di raffinato proprio di lavorato non di elegante è elegante sì ma anche le altre sono eleganti alcune infatti ecco una cosa che ci tenevo a dire è che non fatevi ingannare dal fatto che ci siano delle sostanze comunque tipo la cannabis eccetera eccetera che di per sé uno dice ah ma che te la spruzzi sembri un drogato sembri uno che si fa le canne ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita secondo me quello che ci tengo a dire è che no non è assolutamente collegato il fatto che solo perché la nota che costruisce queste fragranze è quella poi siano difficilmente portabili anzi variano molto sulla pelle assumono delle forme olfattive molto particolari a seconda di ogni persona questi prodotti quindi veramente ve li raccomando tanto c'è da dire che al di là di Pavot gli altri però tipo numero uno si chiama proprio Ashish il numero due si chiama Indica che è una varietà di cannabis la numero tre si chiama Sativa che è un'altra varietà numero sette si chiama Resin cioè che è una resina praticamente queste diciamo tranne il Pavot che è quello più appunto floreale queste hanno proprio la nota di cannabis quindi ecco per dirvi che se non vi piace quella nota non andate ad acquistare queste fragranze al contrario se quella nota vi intriga vi piace vi piace tipo non so black afgano di naso matto o fragranze simili se vi piacciono qui veramente troverete il vostro sacro grale veramente bellissimo costano 170 euro a confezione mi sembra quindi al 40% vi portate a casa comunque un prodotto di altissima qualità oltretutto il packaging è bellissimo c'è questa base che ricorda un po' il cemento dove piazzando sopra il packaging che è sferico è fatto in modo che non cada e quindi è bello insomma è fatto veramente bene quindi c'è da dire che di queste non ve le vado a descrivere perché sono tutte comunque a base di cannabis cioè sanno proprio di cannabis probabilmente è così la Ashish la numero uno è la più aromatica speziata calda è quella che mi è piaciuta di più insieme ad Indica mi sono piaciute tantissimo tutte e due quando le ho provate su pelle è proprio bello le senti molto molto avvolgenti ti coccolano ti fanno accompagnare anche per varie ore perché poi questo è un tipo di nota raga che quando è spruzzata sulla pelle rimane rimane tanto e poi qui appunto le mescolano anche tipo non lo so Indica ad esempio sì c'è la nota di cannabis in testa insieme al bergamotto ma è mescolata al muschio alzandolo all'edera alle note marine quindi ecco non è solo cannabis ovviamente tuttavia fuoriesce molto di quell'aspetto olfattivo vegetale ecco chiamiamolo così bene io direi che ci siamo quello che un po' dovevo dire in generale di tutto il video ve l'ho detto riuscirò a far uscire ancora qualche video nei prossimi giorni prima che io insomma poi avrò un po' di impegni che mi porteranno anche fuori dall'Italia quindi vediamo ma non vi lascerò senza video quello che dovevo dirvi in questo video l'ho fatto spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando queste sono veramente occasioni da non perdere ragazzi ve lo posso assicurare parola di naso Dani tutti i prodotti che vi ho segnalato sono veramente di altissimissimissima qualità e vi auguro dei buoni blind buy a tutte e a tutti noi ci vediamo presto state incollate al canale perché arrivano presto delle profusissime novità e con naso Dani non sbagli mai ciao ciao